E' stata convocata per mercoledì 16 gennaio alle ore 15 negli uffici della regione Abruzzo a Pescara una riunione alla presenza del presidente vicario della regione Abruzzo Giovanni Lolli per affrontare la situazione della Celta S.P.A., un'azienda attualmente in concordato preventivo presente a Tortoreto con uno stabilimento che occupa 90 dipendenti dei 300 complessivi. Un incontro che segue quello che si è tenuto in provincia a Teramo tra le rappresentanze sindacali e la direzione aziendale il 17 dicembre scorso. La situazione è sostanzialmente di stallo, non ci sono novità e questo sicuramente non è una notizia positiva. Il mercoledì incontreremo la regione, siamo stati convocati dal presidente Lolli, speriamo che da quel tavolo arrivino ed escano soluzioni e notizie positive. Nel nostro territorio sono 90, per di più, lavoratori con alta specializzazione che hanno rappresentato per anni un elevatissimo standard tecnologico del territorio, uno dei più elevati probabilmente tra le aziende del territorio provinciale. Con la proprietà abbiamo anche provato a parlare ma le risposte non sono mai dirette, non sono mai precise. Ci hanno sempre rinviato al management che comunque in questi anni è cambiato più volte e spesso non si è dimostrato d'altezza della situazione. Ci saremo con i lavoratori, peraltro ci sarà un presidio di lavoratori proprio durante la riunione che terremo a Pescara, quindi davanti alla sede regionale ci saranno i lavoratori che chiederanno a gran voce il mantenimento occupazionale. Cosa chiederete alla regione? Chiederemo che si impegni affinché l'azienda continui, rimanga sul territorio, non spacchetti la produzione e sviluppo e ricerca e soprattutto tenga in considerazione il sito di Tortoreto.